Buon, così noi cominciamo una cioccolata benissima e la vennerà fuori in quattro lingue per tutti noi capire, per tutti i nostri ascoltatori capire. Allora Manuel fa la traduzione prima in italiano di quello che vuoi parlare adesso. Allora, buongiorno ragazzi, quest'oggi andremo a parlare quattro lingue, le due lingue principali saranno il Italian del Brasil e la lingua veneta, poi parleremo anche il portoguese e l'italiano per tutti quanti capire e niente, andiamo con questa cosa interessante. Bom, então agora falando in portoguese, esse video nós vamos estar fazendo in quattro lingue per che tutti consigam entender. Vai ser un video molto interessante, il va essere in portoguese, in italiano e anche l'italiano e la lingua veneta, che l'italiano e la lingua veneta sono irmãos, è praticamente la mesma cosa. Então nós vamos estar neste video vendo a differenza entre, basicamente entre veneto, italiano e italiano, mas traduzindo também in portoguese per che vocês entendam. Allora spiega adesso in italiano che in questo video parleremo delle differenze fra l'italiano, veneto e anche italiano. Allora, in questo video andremo a parlare delle differenze tra la lingua veneta e l'italiano, che è una lingua parlata nel sud del Brasile, che è una lingua praticamente, posso dire, identica al veneto, ha qualche, naturalmente, ha qualche differenza, proprio per posizione geografica. L'italiano deriva dal veneto in quanto siano immigrati veneti in quella zona del Brasile, e quindi noi in questo video andremo a scoprire le differenze, le diversità e anche magari la cultura e la storia di questa zona, di questa lingua e tutto quel che ne concerne. Va bene, per cominciare, per scominciare andremo a fare le presentazioni. Mi presento, dopo ti fai la presentazione giusto in italiano perché loro e sappiano chi sono io, e mi fai la presentazione tua in portoghese per i nostri brasiliani sapere chi sei. Bom, allora... Li mettiamo i sottotitoli qua sotto. Lora mancaria un schermo, una tela tanto grande. Sì, è. Bom, allora, fa la presentazione. Mi sono Jaciano Ecker, Brasile sicuramente, nascesto nel sud del Brasile, Rio Grande do Sul, parlo italiano, sono anche maestro, si insegno l'italiano, la lingua di migrazione italiana nel Brasile. Parlo del sito Brasile Italian, del YouTube, cantanti anche, basta, se no parliamo tutto il giorno. Sol, fai un po' la presentazione. Eh, adesso, tradurla tutta è abbastanza un problema perché l'hai fatta veramente lunga. Fai un po' la tua presentazione che l'è meglio che fai in portoghese perché penso che anche gli italiani capiscono cosa che vuoi parlare di me. Penso che parlano di... La fai in italiano, in veneto, in italiano o in portoghese? Come vuoi da farla? No, no, può essere italiano o veneto, tanto fa. E ora mi metciamo Manuel Rubin, so del Veneto, della provincia di Padova, parlo la lingua veneta, appunto, parlo anche l'italiano, e se da un fia di tempo che gode squerto la presenza dei italiani in Brasile, italiani, attenzione, no italiani, italiani, che è praticamente i veneti del Brasile, che è una roba interessante, e di conseguenza mi mi sono offerto anche di fare questo video qua, parciarimenti, anche parciarimento a me, a me, perché è interessante capire le differenze delle due lingue, è interessante, ma andiamo a vedere anche queste differenze. e sarà un bel viaio. Ok, agora vou fare, então, un pequeno resumo in portoghese di tutto quello che abbiamo già detto, per chi non consegue capire bene o italiano, o veneto e o italiano. Então, stiamo parlando con Manuel Rubin, il mora in Padova, la terra di Sant'Antonio, in portoghese a gente dice Padova, Sant'Antonio è di Padova. Então, il fa l'italiano, ovviamente, che mora in Italia, fa l'ho veneto, perché non sono tutte le persone che morano nella regione del Venneto che conseguono parlare il Venneto. Il fa l'ho veneto e anche ora sta aprendendo l'italiano. E è interessante a gente dire, come diceva, quando a gente fala di taliano, a gente non sta parlando di italiano e ne di veneto. Taliano è la lingua di migrazione italiana nel Brasile. Venneto è il mio padre del Venneto, perché sono molto parecidi, è del Venneto, è generalmente, che il italiano descende, apesar di avere una mistura di tutti i dialetti, poi il Manuel va a parlare, e italiano è il italiano grammatical parlato nella Italia, per questo è che stiamo facendo questa mistura, per che tutti consigano capire un pochino. Então, basicamente, per ora è stato solo questo, ma a partir di ora, noi vamos a stare pegando una parola e smiussando, falando in quattro lingue. Manuel, adesso solo spiega per i nostri amici in italiano, che è di adesso avanti, andremo, andiamo, andiamo a chappare una parola, andiamo a chappare una parola e spiegare le quattro lingue per vedere la differenza fra... E anche spiega, che l'italiano non è il mio e il Venneto, fa un po' di un resumo in italiano per i tuoi amici, capire dopo cominciamo, dopo andiamo avanti. Allora, la lingua veneta è una lingua, l'italiano è un'altra lingua, se è semplice come il portoghese, non se è il spagnolo, e il spagnolo non è il portoghese, sono due cose così. Che c'è da dire che la lingua veneta, la senalengua, che la deriva dal venetero, che la senalengua, che la esisteva ancora, mi dico in tell'età del bronzo, adesso siamo più o meno là con il tempo storico della nascita del venetero, però il Veneto deriva dal venetero, poi dopo è la sua influenza neolatine, delle lingue latine, lingue come l'italiano, il veneto, il catayan, il spagnolo, il portoghese, il romeno, e l'edica famiglia là. Diciamo che c'è delle differenze tra il venetero e l'italiano, che c'è delle differenze tra il venetero e il spagnolo, che c'è delle differenze tra il venetero e il francese, che c'è delle differenze che adesso andremo a capire meglio in questa puntata, e ne movi dalle, ne movi dalle. Bom, então è exatamente questo, noi vamos começar ora, per che tutti entendo, è un video molto esperato, se você gostar, comparte, comenta qui in basso, e qui ne sape un parte 2, un parte 3, un parte 4, e até questo momento, o Manuel explicava, che la lingua veneta, al contrario di che molti dicono, la anche può essere legalmente solo un dialetto, ma non è un dialetto, è molto più che ciò, è una lingua, a lingua veneta, che ora a gente deve aprender, mesmo quem tem o hábito di chiamare di dialetto, vamos chiamare di lingua veneta, sim, perché è molto antica, molto più antica anche meno che l'italiano, e l'allà nella unificazione dell'Italia, entretanto le lingue, è stato scolito il toscano come essere l'italiano oggi, ma potrebbe essere l'italiano, l'italiano, politicamente, e non la mia, e non la sede, è il veneto che fosse la lingua ufficiale dell'Italia, penso che se fosse, ne sarebbe tanto più... No, che a volte, che a volte, che a volte, io preferivo di tore la lingua della toscana, che è una regione, una regione italiana, e io ho tolto la del Toscano, la variante fiorentina, e da là, è una sesto, l'italiano. e da conseguenza, mi domando come si possa affermare il fatto che la lingua veneta possa essere un diretto dell'italiano, in quanto la lingua veneta la esisteva ancora prima dell'italiano, e l'italiano l'è una sesto dopo della lingua veneta. Da conseguenza, se voglio dire che il fioreo, ossia la lingua veneta, l'ha nata prima del pare, prima dell'upà, prima del papà, è impossibile, non si può, è una roba impossibile. Da conseguenza, si vede, si è da qua, che casca su, tutto sto castello di, non so come puerlo dire, di castronare, che dice sulla lingua veneta, proprio per fare in maniera che la gente veneta non parli più il veneto, infatti, io già l'adrio riuscir, quando che, praticamente, parlando il veneto, che già resta un periodo dove che la gente quede un certo liveo, e diceva, oh, ti sia un buon arotto perché ti parli in veneto, ti riuscirà a parlare l'italiano, non sta a parlare il dietro, è una roba scurrile, è una roba che non va bene da parlare, se tutto è molto dura della testa perché in italiano entriamo già nel discorso, nel discurimento, allora, in italiano una parola a caso, cosa che non so, dimmi una parola, condizione, condizione, la parola condizione, una condizione, a condizione che, una condizione, bene, in italiano si dice condizione, condizione, in portoghese, come si dice? Condição, è una curiosità perché, nel portoghese, abbiamo, la, si dice, se sediglia, che è la ti, con un, come fosse un, col bigoretto, col bigoretto sotto, ecco, ecco, allora, e anche questa fonetica di são, che è normale, per esempio, quando, quando, quando mi insegno, mi parla italiano, che è più facile per me, quando mi insegno l'italiano, per i miei studenti, qua del, del Brasile, che, parla mio l'italiano, e anche l'italiano, è normale, che impara così, invece di dire, anca, e che dice, anca, invece di dire, doman, e che dice, doman, perché, nel portoghese, è normale, questo, questa fonologia, nasale, nasale, come ti parla con il naso, allora, nasale, ecco, e che dice, mai, amanhã, per esempio, nel portoghese, amanhã, mai, amanhecer, e così avanti, e allora, per quello che è normale, quando insegno in italiano, per un Brasilean, che comincia a dire, anca, doman, talian, perché, per esempio, in portoghese, si parla italiano, e non italiano, non è così verto, allora, questa è una differenza, e congição, dopo posso anche scrivere qua, il finisce, è anche una differenza, del di e del di, per esempio, nel portoghese, quando si ha, la lettera, di, si parla G, è come se fosse la G, né, di Giovanni, nell'italiano, allora, è differente, quando, nel portoghese, che abbiamo la, la G di Giovanni, si parla G, G, e allora, è una differenza, questo finisce, allora, congição, ritornando alla parola, congição, con la, se sigilia, che non so neanche, come si parla in italiano, la C, non so, la ciamiamo, la C col biguero, la C, col biguetto sotto, che ricorda il bigu, quello che, se magna, la pasta sull'abigui, insomma, in spagnolo, curiosamente, se dice condizion, se scrive con la C, K, O, N, D, I, C, I, O, N, se leise condizion, o condizion, dipende anche, dalla zona, dove, che se parla, però, come se fa dire, che un veneto, perché dice condizion, le boah rotto, un spagnolo, perché dice condizion, il parla ben, e se, se do mentalità diverse, se do mentalità, che le, 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 le incasina, le, le vuole, le vuole desfare, proprio desfare la lingua veneta, ma la lingua veneta, la se, l'un, 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 l'un punto, d'incontro, dove che si può accattare, e le, le, le lingue, come il spagnolo, il portoghese, il francese, che le se le lingue più orientali, e scusami, più occidentali, e, l'italiano, e il romano, che le se altre tipi di lingue, e la, la, la morfologia, la costituzione della lingua veneta, la se, non la se compagna, di quella italiana, per esempio, gli altri in Veneto, par dire, che siamo proprio una lingua, par far, par dare, una regola, una regola, delle regole, insomma, sì, per esempio, cotefena domanda, e cotefena affermazione, e le se le robe diverse, in italiano, per esempio, per dire, si to matto, te disi, sei matto? E con sta roba qua, ti te l'hai fatto la domanda, sei matto? E, se io invece, voglio dirte, che ti te si matto, non te lo voglio domandare, ma te voglio proprio dire, che te si matto, te dico, sei matto? De conseguenza, la domanda se sei matto, la risposta da se sei, no, l'affermazione la se sei matto, e in Veneto, se cattiamo un'altra roba, se cattiamo, sito matto, la domanda, o sito fora, e l'affermazione la se, te si fora, che se sta in versione del sito te si, sito te si, o se no, ti se, e si tu, dipende anche dalle varianti del Veneto, e ogni lingua ha le proprie varianti, che se è una lingua che tende a disfarle le varianti, per il caso dell'italiano, che tende a disfarle tutte le varianti, per favorirgene una, non mi parla del caso, e che se è una lingua come quella del Veneto, che invece la cerca di mantenerle tutte quante, bene e vive, può dare una più grande maniera, di parlare, di esprimersi con i vocaboli, e mettere quello che capisce voi, la regola che ho, dito appena adesso, del, te si, e sito, la stessa che che sei in inglese, potrebbe dire, are you crazy, you are crazy, are you, you are, è il stesso cambiamento, che sei in inglese, che sei anche in Veneto, però i maestri scuoi, i maestri scuoi, non gli dice mia, tosati, pa dire, pa saber ben l'inglese, pa saber ben sta storia, de far la domanda, e far l'affermazione, basta che disi come che disi in Veneto, inverti, cambiè, non gli dice, non gli dice, sei che è tanto facile, allora, in portoguese, agora, essa fala toda do Manuel, eu vou dar una resumida, pode ficar tranquillo, che nada va passare in branco, ele sta dicendo, se tu mato, e tu sei mato, você è louco, no Veneto, al contrario del italiano, aliás, a titolo di curiosità, italiano e veneto, se fanno la stessa, la stessa cosa, para dire, você sta louco, o afirmativamente, dizendo, você sta louco, tanto no Veneto, quanto no italiano, a gente dice, se tu mato, para a pergunta, e ti si mato, para a afirmação, e no italiano, não, é sempre a mesma coisa, assim como o portugueso, por exemplo, você é louco, ou você é louco, anche nel portugueso, allora la afirmazione, la domanda, come nel italiano, però nel italiano, il Veneto, la stessa roba, ma quello che deve parlare prima, Manuel, non riesco a parlare troppo bene, l'italiano, però lo capisco bene, ma scusate, gli altri amici, de tutta l'Italia, non é per, per dire, che il Veneto é, é migliore, ma é que, eu sono nato del Veneto, allora, per quello, que me identifico, migliore, con quel Veneto, italiano é fratello, é fiolo, é figlio, é, meglio dire, del Veneto, é per quello che, in cui, siamo qua, para parlare, dei Veneti, allora, non é, cavarga, del merito, delle altre lingue, ma siamo qua, para difendere, la nostra, non é vero? se parliamo del Veneto, non é per forza, é per parlare dell'italiano, come se parliamo del francese, non é per forza, é per parlare del portoghese, les é, les é do, é, é proprio la mentalità, come senso de appropriamento, appropriación de una lingua, perché te re da appropriarte de un qualcosa che non é tuo, nel senso, il Veneto, lo parlerá, chi que se veneto, il Veneto, lo viene a parlare in Trentin, che la se na nacea, la nacea provincia del Trentino Alto Adese, che se na region qua, rente al Veneto, e anche in Venestia Giulia, a bien parlada, e, dir que la se on dieto dell'italiano, se que é una mancanza de rispetto, non parlare del Veneto, al posto de parlare dell'italiano, se do robe diverse, una se na mancanza de rispetto, che a outra no. Porque anche a mi, anche a mi, Manuel, scusa, mi gola l'habito de dire Manuel, perché in portugués é Manuel, magari o seu nome é Manuel, ma te chama de Manuel, que para mim fa più bene, va bene? Mi importa, va bem stesso. Allora, quando mi golazo a cominciare a imparare questo Veneto, l'italiano, le diferenze, tutte, anche a mi lo diceva, dialetto Veneto, perché mi non savia, era mancanza de conhecimento adesso, lo so che la lengua, e allora, se nel mio passato, dalle volte, in vidi più antichi, più vecchi, del canale Brasil-Italiano, in qualche momento, che parlo, dialetto Veneto, allora, questo è il momento, di mandare perdon, fa l'amore, ma non parlo più dialetto Veneto. Esatto. Per dirvi un'altra parola, penso, che sia una delle differenze più grandi adesso, dell'italiano con il Veneto, che sia, che il Veneto, il doppio è la L, nell'italiano, per esempio, noi anche che dicemo, no, della, come dell'italiano, quella doppia L, con una sola, magari che parliamo, della, quella, polenta, un balon adesso, in Veneto, e parla mica con la L, allora, dice in Veneto, quelle parole? No, allora, più correttamente, sì, la L, la si dopo anche in Veneto, in realtà, per dirla correttamente, la S è locaisata, in alcune zone, in qualche zona, si dopo anche la L, in altre, si cerca di cavare la via, però, la L, la che dice sempre, Bayon, cosa scrive Bayon, B, A, L, col taglio, non so se dopo, non so se dopo, ti sia buono di metterla qua, in, eh, per me, per me metterla qua, nel video, Manuel, sì, la maniera, ma la unica maniera, se ti mandare, mentre Whatsapp, mi chappare da là, perché, qua, non c'è la L tagliata, guarda qua, Manuel, guarda qua, guarda la camera qua, quando abbiamo, sia la L tagliata, no, aspetta, aspetta, vediamo se so, quando farla vedere, vediamo se vede, se vede, no, no, ma dopo ti mi mandi, che metto, quante le vedi, allora, vabbè, dopo, dopo la mettiamo, sì, comunque, la L tagliata, sta, sta, sta L tagliata, la se praticamente, una L, che la se dò, per, come dire, per dare, una L, che la puoi, tagliare, essere cavata via, una L, che la se può pronunciare, una L, che la puoi anche, troncare la parola, per esempio, cavallo, te scrivi cavallo, qua L tagliata, ma in verne, tu ti puoi dire, cavallo, 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 o cavallo, se come, se come, se come, brasie, brasil, brasie, e, dopo, come se puoi dire, no, brasie, brasil e brasile, te scrivi, qua L tagliata, te puoi pronunciarlo, in determinate maniere, le facoltative, no, ma quello che mi mandi a dir, perché, un tagliato, mi, quando, sento un veneto, la differenza, che la vi insulto, è quella, la mancanza, per esempio, ti ha detto, parola, mi non sono neanche, buono di dire, parola, parola, per non altri, cavallo, è difficile, per me, parlare, cavallo, Brasile, allora, penso che questa, sia la differenza, più grande, ma del resto, è quasi la stessa roba, eh? Sì, sì, è un fatto, di come, che costuma, parlare, qua, sì, che se, sta la differenza, che la L, la viene, la viene praticamente, non in tutte le parole, ma in tante, ha viene cavallo, ha viene cavallo, e adesso, una parola, per, per dire, che, l'italiano, è proprio, il fiolo del Veneto, in portoghese, cadeira, nell'italiano, sedia, italiano, carrega, come il Veneto? Carrega, 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 allora, è la stessa roba, per vedere, che è la differenza, è la differenza dell'italiano, se puoi anche dire, carrega, una carrega, e una carrega, dipende anche, ovviamente, dalla zona, comunque, carrega, carrega, se puoi, benissimo dire, tutedo. Per esempio, anche qua, go, le luce, in pisade, l'ora, fa, chiaro, anche, penso che nel Veneto, anche chi dice, chiaro, mi è vero? Sì. E nell'italiano, chiaro. Go, in italiano si dice, chiaro, in Veneto si dice, chiaro, go, e, luce, in pisà, go, e use, in pisà, le luce, in pisà, e fa, ciaro, e le fa, ciaro, ecco, in Veneto si dice così, più o meno, la stessa, luci, che credo, di luci, se è italiana, in Veneto si do pararia, luce, però, che c'è anche da dire, che, anche al Veneto, le Drio, le Drio, praticamente, passare da luce, a luce, cavando via, che la z, e facendo diventare una c, come, in italiano. Sì. E un'altra, un'altra roba, che tutti gli domandano, e se è nostro, se è del Veneto, se è dell'italiano, e non le mie, dell'italiano, se è la parola, a Drio, che se tu, a ogni, tre parole, si parla Drio, ah, siamo qua a Drio parlare, ah, a Gere, mi serve a Drio cantare, mi serve a Drio lavorare, nell'italiano, che mi è il Drio, mi è vero? eh no, eh no, l'italiano, eh, il D'opera, eh, sto a, eh, sto a, sto facendo, sì, in italiano si dice, sto facendo, in Veneto si dice, sodrio far, sodrio fare, sodrio, sodrio tagliar, tagliar assiesa, sai cosa che si è assiesa? no, la siepe, no, no, oh, signor, che l'alame, adesso se ha bemmo formato qua, ma intanto ti trovo ali, espego in portugese, né, aquilo que a gente estava falando agora, o Drio, do Italian e do Veneto, que non tem no italiano, né, muitos perguntam, né, no meu curso de Italian, né, é uma das perguntas mais frequentes, mas o que que é o Drio, então, gente, nós temos aulas específicas lá, falando sobre isso, mas Drio, ele é uma espécie de verbo auxiliar, por exemplo, mi sondrio laurar, quer dizer, eu estou trabalhando, mas quase como se fosse um, eu estou a trabalhar, né, e no caso do italiano, sto a lavorare, né, estou trabalhando, então esse Drio, ele vem sempre nesse sentido, junto com as palavras, né, por exemplo, sondrio laurar, estou trabalhando, sondrio cantare, eu estou cantando, sondrio estudiar, eu estou estudando, ele é um, não é o eu estou literalmente, proteção, importante da siepe, da sieza, siepe in italiano, e sieza in Veneto. E no português, cerca viva, e essa é uma coisa de dizer, porque cerca, no italiano e no Veneto, cercar, no português, procurar, cercar, no italiano, mas em esse sentido, no português, cerca, não é, não é andar, é cerca, né, não é cerca, então cerca é, que, que, é cerca, não, é o que tem que falar ali, agora me vai mancar, acerca, acerca de mim, acerca de mim, rente de mim, vicino de mim. Ecco, allora, cercare, cercare, cercar, e, ir a procura no português, e, adesso, quando parliamo, quello de a pianta, nel português, cerca viva, adesso, me vou desmentar, nel Veneto, nell'italiano, que tem que falar, é siepe, no? Sieza, sieza in Veneto, e siepe in italiano. Sieza, quase la cesa, allora, adesso andemo, alla cesa, nel Veneto, como que se chama cesa? Cesa. Cesa, e, nell'italiano, chiesa, Chiesa. E, no português, igreja, então, vejam a diferença, igreja, do português, cesa, no Veneto, né? E, também, no italiano, e no italiano, chiesa. E, in spagnolo, inglesia, in spagnolo, se dice, inglesia, inglesia, si, inglesia, e, in inglese, se church, ogni lingua era la propria, comunque, vedevo una somiglianza, una somiglianza, entra il português, e il spagnolo, e una somiglianza, entra il Veneto, e l'italiano, ma, se anche tante somiglianze, era quante somiglianze, entra il Veneto, il spagnolo, e le altre lingue, de conseguenza, se, se o Dio veda, che c'è tante lingue, che se somiglian, e non per questo, le c'è, una dietro, che altra, e che c'è anche tante, eh, tante diversità, tante robe differenti. Sì, sono qua, adriu, parlare la metoseta, quella che ha due anni, la gaccia, palla una bottiglia, e ma, ho paura che la spacca, Larissa, deixa lì, Jacques, mi aiuta qui, ha bisogno di aiuto, se non spacca la bottiglia, vieni fuori, e i vietri, adesso un'altra parola, allora, il viero, nell'italiano, e anche la bottiglia, come che si sente il Veneto, la bottiglia fatta di viero, per esempio, nel Veneto, e ora, in Veneto, se puoi dire bottiglia, parola, c'è anche da dire, che c'è una parola, che la si dopara ancora, ma la si dopara manco, c'è bossa, la bossa, o la bozza, dipende, se ti dici a s, o a th, che c'è comunque una s, a bossa, che c'è praticamente, la bossa, la bottiglia, e, e, il vero, che l'è, il vero, in italiano, si dice, il vetro, in Veneto, il vero, e se, come? Viero, solo con la i, è differente, dal Veneto lì, invece di dire vero, perché vero, è vero, è vero, è verità, vero, allora, non so se è per quello, ma, sì, anche qua, anche qua, vero, vuol dire, vero, se è vero, no, in realtà, in Veneto, il vero, il vero, con la e sarata, e se, è vero, della bottiglia, il vero del goto, il vero della finestra, buona, è vero, se invece, se è vero, quello che ti hai detto, se è vero, quello che ti hai fatto, quello che ti hai detto, io, che ti hai fatto, ecco, se una qua è sarata, una qua è verta, che vuol dire, da robe differenti, comunque, sia, se è, più o meno, se è compagna. Sì, no portugues, stavamo falando di, garrafa e vidro, né, garrafa, bottiglia, bottiglia, quelle altre parole, che hai detto del Veneto, e ho fatto di vidro, che in italiano è, vero, no veneto, ola, guarda, sta qua, sta qua, la se la, carrafa, carrafa, e voi, carrafa, molto simile a garrafa, solo che, questa qua è una carrafa, perché contiene tanta acqua, non so se, si riesca a vedere, sì, sì, la carrafa, la garrafa, tanta acqua, Trento, e se si chiama carrafa, o broca, o come chi vuole chiamare, la garra, na, 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 na similitudine, è quasi vicini, do termine, su che significa, da roba è diversa. Nel portugese, jarra, quello che ti ha, mostrato lì, nel portugese, jarra, pra ver, agora, falando in portugese, né, então, a differenza, a garrafa, do portugese, no italiano, bottiglia, no veneto, também, no italiano, né, e già, o que eles dizem, carrafa, né, è a jarra, pra noi, então, pra ver, tá, bom, avemo parla, che la bottiglia era fatta, de vero, de vetro, né, e, e questa carrafa, nel portugese, è feita de plastico, come si parla, in veneto, italiano? De plastico, de plastico, la zede, la zede, è plastica, in veneto, de plastica, e, in italiano, è di plastica, la zede plastica, è di plastica, uno se veneto, che altro se italiano. Sì, Manuel, dimmi una roba, hai dato tanto tempo lì, o, l'ora da fare adesso, no, tempo? No, 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 me so tolto, me so tolto tutto il dopo mesdi, per, per, per ciacolar, per ciacolar, de, 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 que me parli, pi produttive, pi, pi, de, guardare a TV, visión, dato che, per, due, va a essere in italiano. E ora lo dico prima in italiano, e dopo lo dico in veneto. Va bene. Questo è uno dei tre, quattro video che andremo a fare nel corso del tempo, per parlare della differenza tra l'italiano, il veneto, il talian e il portoghese, e noi per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo nella prossima puntata e buona giornata. Gli altri vi salutiamo qua, sto qua, è uno dei due, tre, quattro video che andremo a fare nel corso del tempo, gli altri appunto, come già dito, se fermiamo qua, vi aspettiamo alla prossima puntata, mi raccomando, stai con gli altri, e buona giornata, buona serata.